Stop a lavoro nei settori agricolo, florovivaistico ed ile e affini dalle 12.30 alle 16, nei giorni in cui la mappa dell'Inail segnali un rischio alto a causa del caldo per i lavoratori. Il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, alla fine ha emesso l'attesa ordinanza che sospende le attività che si svolgono all'esterno e che presentano rischi gravi per gli addetti che svolgono attività fisica intensa e in prolungata esposizione al sole e dunque a temperature elevate a causa delle quali gli effetti dei colpi di calore possono essere letali. Per le attività di pubblica utilità i datori di lavoro dovranno adottare misure organizzative per salvaguardare i livelli minimi delle prestazioni dei servizi essenziali. L'ordinanza urgente è stata firmata dal presidente Schifani ed è valida con efficacia immediata fino al prossimo 31 agosto. Era stata la filea CGL Sicilia, sindacato ed Ili, a lanciare la campagna Segui la Sagoma contro l'emergenza caldo nei cantieri del settore delle costruzioni con iniziative nelle città siciliane per sollecitare l'ordinanza diretta a quanti si espongono a gravi rischi, anche mortali, lavorando ad alte temperature. La sagoma da seguire è quella del presidente della regione Renato Schifani, al quale sono state e verranno rivolte domande sul lavoro ed emergenza temperature. Intanto l'anticiclone ci accompagnerà per l'intera settimana a causa delle correnti calde irrisalita dal Nord Africa. Il caldo torrido sta interessando le aree interne siciliane, mentre le coste devono fronteggiare quello a foso umido. Il servizio informativo agrometeorologico siciliano, che raccoglie i dati su piogge e temperature, certifica che gran parte della Sicilia è in stato di siccità severa o estrema. Si consolida in particolare il carattere di siccità a medio termine, a causa del deficit pluviometrico, ovvero la mancanza di piogge dell'autunno 2023. Giugno 2024 è stato per la Sicilia il decimo mese consecutivo con temperature superiori alle medie stagionali rispetto agli anni passati. Un'emergenza che sta asciugando tutte le risorse idriche, come drammaticamente dimostra l'evaporazione del lago di Perguse nell'Ennese, del lago artificiale dell'Ogliastro fra Catania ed Enna e del Fanaco nel Palermitano.